Buongiorno a tutti, sono Brimo Brelinghieri, stiamo partecipando all'ennesimo stage di Giovani Promesse, abbiamo riscontrato un'ottima partecipazione da parte dei nostri ragazzi, ringraziamo le istituzioni pubbliche che è Capodorlando che ci hanno ospitato e dobbiamo dire che siamo stati benissimo, ringraziamo i ragazzi per l'ennesima fiducia che hanno riposto in noi, stiamo lavorando e speriamo di portare fuori qualcosa di buono come abbiamo fatto dalle altre parti.